Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Complice la domenica e il fine settimana tornano a scendere i numeri del contagio in Abruzzo. Scendono però solo per quello che riguarda i nuovi positivi, che sono meno di ieri, vale a dire 205. Ma la percentuale di contagiosità, che ieri era del 10%, sabato dell'11.2, oggi sale ancora di più e si porta a quota 12.7%. Per quelli che sono stati gli standard degli ultimi giorni è tantissimo. D'altra parte il numero dei test esaminati tra tamponi molecolari e antigenici non sono stati tanti, anzi il numero più basso dell'ultima settimana, vale a dire 1.608. Non cambia la distribuzione territoriale del contagio con quella di Chieti, che resta la provincia con il maggior numero di casi, 74. Poi quella di Pescara con 48, l'Aquilano con 38 e infine la provincia di Teramo con 35 nuovi positivi. Sono 4 invece i casi provenienti da fuori regione, mentre ammontano a 6 quelli per i quali sono in corso delle verifiche sulla provenienza. Purtroppo torna ad essere alto il dato che riguarda i decessi. Quelli di oggi sono ben 5, di cui 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di L'Aquila e gli altri 2 sono decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi alle ASL. Il totale di coloro che hanno perso la vita sale così a quota 3.338, dove arrivano ottime notizie invece dalle strutture ospedaliere regionali. Diminuiscono di una unità i pazienti ricoverati nelle aree mediche, dove adesso i letti occupati sono 178. Ma il dato più importante riguarda le terapie intensive, dove scende ancora di una unità il numero dei ricoveri. E questo fa sì che i pazienti in questo momento siano solo 3, uno dei minimi storici dall'inizio della pandemia. I guariti sono anche oggi molto più numerosi dei nuovi contagiati. Ammontano infatti a 645 coloro che hanno risolto il problema con il virus. Questo fa sì che il numero degli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei guariti e dei deceduti, sia di ben 445 unità minori al totale di ieri, per un valore che si attesta a quota 17.727.